Visto che con te si può parlare davvero di tutto, innanzitutto, scusami il gioco di parole, ti chiedo, ma dove va Pigliacelli, uno dei tuoi assistiti, che ha fatto un altro gran campionato con la Roma Primavera di Alberto De Rossi? Ma lo stiamo decidendo in questi giorni e a breve saprete. Eh no, non mi puoi rispondere così, dai Danilo, dammi qualche possibilità, cioè, dammi qualche possibilità, fammi tipo un elenco di 3-4 squadre, poi non mi devi dire dove va, però dammi delle chance, dai. Ma può andare in un club di serie A e poi può essere girato a giocare in un club di serie B, se vuoi posso dirti quelli di serie B magari. Dimmi qualche club di B, dai. Dai, ci sono dei club di B interessati, il Sassuolo, il Novara, il Livorno, bastano? Bastano, bastano, va bene, tre te li concedo, tre te li concedo, Danilo. Grazie, grazie, siete magnanimi, grazie. No, no, non abbiamo ancora finito, Valentina. No, 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 non abbiamo finito, no, siccome è un gran bel prospetto, un gran bel portiere, no, l'augurio ovviamente e la speranza è quello poi di poter ritornare alla base, no? Su questo non ci sono dubbi. Sicuramente, sicuramente. Come tanti giovani, forse quasi tutti in Italia, devono fare un percorso. Ed è importante per i giovani cercare di capire qual è il percorso più giusto, soprattutto dove hanno maggiori chance di poter dimostrare, di poter giocare, perché poi se hanno delle qualità, come in questo caso a Pigliacelli, sicuramente possono tornare protagonisti nel club di appartenenza. Mi piace parlare di un ragazzo che è stato sfortunatissimo come Anteghi, un under 21, e che nonostante sta recuperando da un crociato, molto probabilmente andrà in Serie A. In queste ore stiamo concludendo un trasferimento in una squadra di Serie A dalla Roma, in prestito con diritto di scatto. Nord, centro, sud. E quindi è un ragazzo che nonostante le... Ma al sud. Tanto sud, un'isola. Va bene? Va bene no, anche perché Anteghi l'anno scorso a Grosseto aveva iniziato la stagione molto bene. Catania ha detto. Danilo, la stagione aveva iniziato molto bene l'anno scorso a Grosseto, poi è stato sfortunato. Quindi Catania, Catania. Catania. Damaran, perfetto. Catania, sì, Catania. Damaran, Damaran. Grazie Danilo. Buon appetito, grazie. Prego, grazie e buonasera a tutti voi. Bene, ringraziamo Danilo.